Sulla riforma del Senato era ora avere una sola Camera, peccato che ci sia un solo Sindaco per Regione, si continuano a fare mediazioni a spese dei Sindaci, ma guardate va benissimo così perché era vent'anni che si discuteva di fare la riforma del Senato, sono stati sacrificati i Sindaci ma non è un grande problema.